Il centro di urno psichiatrico di L'Aquila non può essere delocalizzato in periferia ma deve restare nel cuore della vita cittadina o si rischia l'isolamento tipico di una struttura manicomiale. A sostenere il consigliere regionale di rifondazione comunista Maurizio Cerbo dopo la decisione del manager dell'ASL di trasferire il centro in una palazzina nella frazione di Bagno, lontana da qualsiasi contesto sociale e urbanizzato, che comporterebbe gravi difficoltà di mobilità in autonomia per gli utenti. Il trasferimento si è reso necessario dopo le inadempienze del manager Silveri Sostenia Cerbo che hanno portato al secondo intervento della commissione parlamentare dei NASL decretando la chiusura del centro ospitato dal 4 novembre 2009 nei container. E' assolutamente folle che nonostante ci sia stata la disponibilità del comune la regione, la giunta regionale, il presidente Chiodi faccia finta, ignori la situazione, non so se ne sono anche a conoscenza o se ne fregano. Io penso che in qualsiasi posto civile della nostra penisola o dell'Europa il presidente della regione chiamerebbe il sindaco, il presidente della provincia, il manager dell'ASL per trovare una soluzione. Anche perché su questo tra l'altro il comune ha scritto, si è espresso e ha scritto l'ASL da mesi. Quindi non si capisce perché ci sia questo atteggiamento di negligenza tra l'altro in una città in cui a causa dei traumi del terremoto, tutto ciò che è accaduto sconvolgendo la vita quotidiana di decine di migliaia di persone, questo tipo di pautologie tra l'altro sta aumentando. Come ha denunciato lo stesso sindaco, quindi ci si aspetterebbe sensibilità, concretezza e invece c'è un atteggiamento di assoluto disattenzione nei confronti di questa tematica. A Cerbo rivolge quindi un appello al governatore Chiodi. Adesso il nostro appello è a Chiodi ad intervenire ascoltando la voce dei familiari, ascoltando la voce degli operatori e delle associazioni. Grazie a tutti.